Oggi andremo ad analizzare il portafoglio di Jeremy di Financial Education, uno youtuber ma soprattutto un grande investitore. Prima di iniziare voglio un attimo spiegarvi perché vado ad analizzare il suo portafoglio. Spesso quando porto video su Jeremy vengo deriso, qualcuno ride del fatto che io parli sempre di Jeremy. Quindi voglio spiegarvi per bene perché lo faccio. Lo faccio perché lo considero un investitore fantastico, molto sul pezzo, molto bravo e con una visione veramente notevole, molto bravo a vedere in avanti, a vedere il futuro. Detta così sembra un po' una cosa esoterica, però una delle doti più importanti degli investitori è quella di riuscire a vedere qualche anno avanti, qualche anno in fronte a sé. Almeno cinque normalmente, perché Jeremy fa delle valutazioni a cinque anni generalmente e consiglio di farlo anche a voi. A 10 anni diventa un pochino difficile perché ovviamente è molto difficile per vedere cosa succederà tra dieci anni. Tra cinque anni è più fattibile e dovete sempre puntare a fare almeno il 100% in cinque anni con il vostro investimento. Le performance di Jeremy parlano da sole. Negli scorsi due anni dovrebbe aver avuto una performance intorno al 150-200%. Sarei curioso di vedere quanti altri investitori riescono ad ottenere una performance del genere. È una performance veramente eccezionale e questo è il motivo per cui seguo con attenzione ogni sua mossa, ogni sua analisi e oltre ad analizzare le aziende che analizza lui, cerco di imparare dalle sue analisi. Nel suo canale ci sono veramente tantissimi video super educativi che consiglio a tutti di andare a vedere. Imparerete tantissimo guardandoli con apertura mentale senza partire prevenuti dicendo è un pompatore di azioni. Non è così, è un grande investitore. Punto. Benvenuti su Investire con Gus. Spero abbiate capito le motivazioni per cui mi piace parlare di Jeremy e dei suoi investimenti. In questo video andremo ad analizzare nel minimo dettaglio il suo portafoglio pubblico, quello che mostra il suo gruppo Discord. Lo ha recentemente mostrato anche su YouTube, perciò sfrutteremo questa occasione per andare ad analizzarlo nel minimo dettaglio. Vi dirò cosa penso delle sue posizioni, vi dirò se anch'io ho quelle posizioni in comune con lui, perché ci ho investito e perché ci ha investito lui e vi dirò cosa pensa di fare in futuro con le sue azioni e se sta pensando di comprare qualche altra azione da inserire nel portafoglio pubblico. Prima di iniziare voglio farti una domanda. Tu segui Jeremy? Scrivelo nei commenti, fammi sapere se segui il suo canale e soprattutto se hai imparato qualcosa da lui. Sono molto curioso. E anche, già che vai a scrivere un commento, non dimenticarti di lasciare un mi piace e di iscriverti al canale se sei nuovo. Iniziamo subito dicendo che il portafoglio vale 1.648.000 dollari. Piuttosto grossetto. La prima posizione, come in molti già sapranno, è Tesla per un valore di 491.000 dollari. Questo vuol dire che vale il 29% del portafoglio, una posizione incredibilmente predominante. Però Jeremy ha spiegato che ha deciso di mantenerla a questi livelli perché la maggior parte di questa posizione è guadagno. Infatti i 457.000 dollari sono soltanto guadagno. L'investimento iniziale è stato veramente piccolino rispetto al valore che ha raggiunto perché ha un gain del 1.339%. Quindi ha detto che secondo lui non avrebbe molto senso diminuire la posizione, ridurla, perché comunque crede molto nella società anche se pensa che a questi livelli potrebbe essere un pochino sopravvalutata e che magari nei prossimi anni non farà molta performance. Però nel momento in cui sei in gain del 1.339% direi che anche se per qualche anno non fa una grossa performance non hai niente di cui lamentarti. Ha pensato diverse volte di chiudere questa posizione o perlomeno di diminuirla, però alla fine la conclusione a cui è arrivato è che la cosa migliore fosse non fare assolutamente niente perché continua a credere nella società. E sinceramente sono d'accordo con lui, alla fine finché credi in una società non ha senso chiudere la tua posizione. Lui spesso chiude troppo presto le sue posizioni, questa è probabilmente la sua debolezza maggiore. Per esempio mi viene in mente che lui aveva investito in Monster Energy e aveva chiuso troppo presto, avrebbe fatto un gain veramente pazzesco su quell'azione. Infatti Monster Energy è una delle azioni che negli ultimi 20 anni ha performato meglio, se non addirittura quella che ha performato meglio. Perciò se possiamo dire qualcosa di male su Jeremy è che probabilmente è un po' frettoloso a chiudere le sue posizioni e dovrebbe essere un pochino più paziente. In questo caso però sta cercando di risolvere il suo problema e sta cercando di mantenere la posizione nonostante questo enorme gain. La posizione numero due non può che essere Tattooed Chef, l'azione di cui ormai parla ogni giorno praticamente. Non passa molto tempo tra un video e l'altro su Tattooed Chef, adora questa azione e pensa che nei prossimi anni possa diventare un colosso del food. per adesso sta guadagnando un onesto 7% e la posizione vale 199.000 dollari. Il suo prezzo di acquisto è stato 18,62, un ottimo prezzo secondo me. Penso anch'io che Tattooed Chef nei prossimi anni possa dare delle grandissime soddisfazioni. In molti dicono che magari il fatto che stia crescendo in maniera così aggressiva sia un po' problematico perché l'azienda sta mettendo da parte la profittabilità. Però queste persone evidentemente non capiscono come si analizzi un'azienda growth perché le aziende growth devono spendere ogni dollaro per la loro crescita, non indebitandosi in maniera esagerata. Il Tattooed Chef ha più cash che debiti quindi la situazione debitoria è assolutamente tranquilla. Però lo scopo principale di un'azienda giovane e in crescita è appunto crescere, svilupparsi, far diventare il suo business sempre più grosso. Perciò la società deve per forza rinunciare un pochino alla profittabilità ma non è quello che ci interessa. Quando si investe in un'azione giovane ad alta crescita quello che ti interessa non è la profittabilità ma è la crescita a livello di top line quindi a livello di ricavi. L'azienda deve espandersi il più possibile, deve offrire sempre più prodotti e ovviamente prodotti che piacciono alle persone. Perciò deve concentrarsi più che altro sui ricavi. Questa è la posizione più grossa del mio portafoglio di toro e vale più o meno il 14% del totale se non sbaglio. Nel mio portafoglio privato la posizione di Tattooed Chef è molto più piccola però vorrei crescerla pian pianino. Al momento sono un po' fermo con gli investimenti però se tornasse intorno a zona 19, adesso è molto vicino in realtà sta a 19,3 circa probabilmente un'aggiunta la farei. Quindi sì questa è un'ottima azione che magari nei prossimi anni potrebbe dare delle soddisfazioni come ha fatto Monster Beverage. Un'altra cosa da considerare con le azioni di food e beverage è il fatto che tendenzialmente una volta che diventano aziende molto stabili e mature iniziano a pagare dividendi e fare buyback. Perciò l'apprezzamento dell'azione potrebbe essere ancora più esponenziale perché se l'azienda facesse buyback ovviamente il valore della singola azione andrebbe ad aumentare. Oppure magari riceveremo un buon dividendo a un certo punto. Un'altra cosa che potrebbe forse succedere è una possibile acquisizione di Tattooed Chef da parte di qualche colosso. Anche se non lo so se il management di Tattooed Chef sarebbe effettivamente disposto a vendere la società a qualcuno perché la adorano da quel che capisco sono veramente innamorati della società e consumano anche i prodotti che produce quindi non credo siano molto interessati a vendere. Quindi sono molto positivo su quest'azione mi piace parecchio e Jeremy ha fatto un bel lavoro a scovarla. Poi abbiamo Revolve. Altro gain veramente impressionante di Jeremy più 475 per cento e se non sbaglio ci ha investito nel 2020 quindi più o meno in un anno ha fatto questo gain. Una roba veramente incredibile. Ha fatto un colpo pazzesco. Questa è una società che si occupa di vendere vestiti online in cui io non ho mai investito non mi sembrava così interessante. Peccato. Il gain è mostruoso e questa vale il 9,8 per cento del portafoglio. Quindi le prime tre posizioni valgono più o meno il 50 per cento del portafoglio totale. È evidente che Jeremy sia un focus investor come Warren Buffett e Charlie Munger investe tantissimo nelle sue prime posizioni. Va all in nelle posizioni in cui ha alta convinzione e questo premia la sua performance perché se sceglie bene le azioni in cui investire concentrando in poche posizioni una grossa parte del portafoglio si possono fare veramente tantissimi soldi però bisogna stare molto attenti perché quando si sbaglia sono dolori. Lui ovviamente è un investitore molto preparato, molto esperto quindi può permettersi di farlo. Ha un principiante probabilmente sconsigliabile agire in questo modo perché potrebbe essere molto ma molto rischioso. Un singolo errore costerebbe veramente tantissimo. Revolve è una società che non ho mai analizzato più di tanto quindi non mi dilungherò molto a parlarne. Non posso far altro che dire bravo a Jeremy per questo colpo pazzesco. Poi abbiamo Dropbox che è una delle mie posizioni più grosse e una delle mie azioni preferite su cui sto facendo veramente un ottimo gain migliore di Jeremy. Sono riuscito a entrare un pochino meglio di lui però anche lui è in guadagna del 57 per cento quindi direi niente male. E anche questa come Revolve vale il 9 per cento del portafoglio. Anche qua una posizione piuttosto considerevole. Su questa non ho molto da dire ne ho parlato diverse volte. Vi invito ad andare a vedere i miei vecchi video su Dropbox se non li avete ancora visti. Ne ho fatti parecchi. Ne avevo fatto anche uno abbastanza recentemente in cui avevo parlato di uno youtuber italiano che aveva deciso di shortarla intorno a 25 o 26. Adesso stiamo oltre i 30 quindi direi che non gli sta andando molto bene. Dropbox era un'azione molto interessante perché veniva un po' snobbata dal mercato però era molto sottovalutata ed è un'azione che sta avendo veramente un'ottima crescita anche se in tanti sono spaventati dalla competizione che ha Dropbox perché opera in un settore molto ma molto competitivo in cui deve vedersela con colossi come Google e Microsoft. Il management sta riuscendo comunque ad ottenere dei risultati pazzeschi negli scorsi anni e nei prossimi anni dovrebbe crescere i ricavi più meno del 10 per cento anno e in passato riusciva a crescere a dei livelli ancora più alti quindi la competizione non è mai stato un grosso problema. Perciò il consiglio che posso darvi è quello di non fossilizzarvi troppo sulla competizione nel senso che se un mercato è buono è normale che ci sia tanta competizione anzi se non ci fosse competizione in un mercato fatevi due domande magari vuol dire che non è così fantastico come sembra. E poi abbiamo Corsair un'altra delle azioni che recentemente sta comprando molto violentemente e che sto comprando anch'io soprattutto nel portafoglio di Toro. Adesso nel mio portafoglio di Toro dovrebbe valere più o meno il 13 per cento del totale o una cosa del genere perché le valutazioni stanno diventando sempre più interessanti e diciamo che finché continuo a scendere così non posso far altro che comprare. Adesso vi faccio un attimo una domanda così non vi addormentate scrivete nei commenti se avete qualcuna di queste prime cinque posizioni nel vostro portafoglio e scrivete a che prezzo le avete comprate. Corsair è una posizione più o meno grossa come Dropbox però la posizione iniziale è molto più grossa rispetto a Dropbox perché su Dropbox sta guadagnando 55 mila dollari invece su Corsair ne sta perdendo 26 mila quindi è evidente che abbia molta convinzione in questa posizione e mi sembra una posizione abbastanza simile a Dropbox perché è un'azienda ad alta crescita che ha una valutazione da azienda value praticamente. Il pf forward al momento sta tra 15 e 18 perciò una valutazione abbastanza bassa per una società che nei prossimi cinque anni potrebbe crescere più o meno tra il 10 e il 20 per cento annuo. Quindi la valutazione sta diventando davvero molto interessante e la cosa buona è il fatto che secondo me il rischio in questo investimento è veramente molto basso sarà molto difficile perdere soldi tra cinque anni su questo investimento secondo me ovviamente ricordatevi sempre che il mio non è un consiglio finanziario perché io sono il signor nessuno non sono un consulente finanziario quindi tutto quello che dico potrebbero essere cavolate. Poi abbiamo Facebook che vale il 7,7 per cento del portafoglio questa è un'azienda veramente pazzesca in cui ho investito anch'io diverse volte in più tranche e di questo investimento ha detto che si pente amaramente di non aver costruito una posizione più grossa questa sarebbe dovuta essere una delle sue posizioni in top 3 e invece non l'ha mai costruita a livelli così grossi. Io ho lo stesso pentimento nel portafoglio di Toro. Nel mio portafoglio di Toro anzi in entrambi i miei portafogli di Toro è presente Facebook però le posizioni sono veramente troppo piccole. In uno adesso vale più o meno il 7 per cento quasi l'otto però inizialmente valeva il 5 avrei voluto costruire una posizione che valesse almeno il 10 per cento perché avevo veramente un'alta convinzione in Facebook. Peccato dispiace anche a me però nel mio portafoglio personale invece è una delle posizioni più grosse quindi almeno di là sono contento. Anche per quanto riguarda Facebook se volete andatevi a vedere il video in cui l'ho analizzata nel dettaglio vi lascio il link qua sopra e non ho molto da aggiungere penso che sia un'azienda veramente fantastica che nei prossimi anni darà molte soddisfazioni. Poi abbiamo Skyworks e anche questa vale più o meno il 7 per cento del portafoglio. Questa è un'azienda di semiconduttori che è molto esposta al 5G e lui aveva scelto questa proprio per questo motivo perché pensava che sarebbe stata l'azienda che avrebbe beneficiato maggiormente dall'implementazione del 5G. Secondo me qua ha commesso un errore nel senso che c'erano aziende di semiconduttori più interessanti di Skyworks. Ad esempio io invece che investire in Skyworks nello stesso anno in cui ha investito lui che dovrebbe essere il 2018 se non sbaglio non vorrei dire una fesseria però sono abbastanza sicuro che sia il 2018 io avevo investito in LAM Research e Applied Materials che hanno performato molto meglio rispetto a Skyworks. Penso che questo sia un piccolo errore se possiamo chiamarlo così perché comunque ha fatto il 150 per cento in neanche tre anni quindi una performance veramente pazzesca. E adesso iniziano le posizioni più piccoline diciamo che il grosso del suo portafoglio sta in queste prime sette posizioni adesso iniziano quelle più piccoline Planet 14 ad esempio vale il 3,7 per cento del portafoglio e questa è una delle azioni per cui era stato attaccato di più. Dopo questo acquisto in tanti le hanno chiamato un personaggio che cerca di fare pump and dump su aziende molto piccole. Invece non c'è stato nessun pump and dump perché ha comprato le azioni e le ha mantenute, le sta mantenendo e non ha la benché minima intenzione di venderle. Qua ha avuto una visione, una visione che io non ho assolutamente avuto anzi le prime volte che ha parlato di Planet 14 ho detto cos'è sta schifezza. Evidentemente lui è stato in grado di vedere qualcosa che io non vedevo e questo sta ripagando parecchio. Il gain è del 393%, veramente è pazzesco, ha comprato a 1,25 dollari e adesso l'azienda, l'azione vale 6,19 dollari. Bravo Jeremy, complimenti. Questa è una società che si occupa di vendere e distribuire cannabis e diciamo che Jeremy crede parecchio in questo settore a lungo termine, pensa che diventerà molto grosso e che ci saranno diverse aziende che potrebbero valere anche oltre i 10 miliardi di dollari e pensa che Planet 14 potrebbe essere una di quelle. Staremo a vedere se avrà ragione, per adesso gli sta andando piuttosto bene. Poi abbiamo Upwork, un'altra posizione piccolina che verrà più o meno il 3%, qualcosa di meno, 45 mila dollari, su cui sta un gain del 311%. Questa ve la racconto con un po' di amarezza perché era un'azione che mi piaceva moltissimo, in cui volevo investire ma alla fine non so perché, sinceramente, non l'ho analizzata e non ci ho investito. Pessima idea perché probabilmente nei prossimi anni questa azienda continuerà a crescere e diventerà veramente un colosso e nonostante lui abbia già un gain del 311% è molto probabile che questo gain diventerà ancora più grosso. Quindi Shemogus, un vero pollo. Anche Jeremy un pochino si pente di non aver costruito una posizione più grossa perché aveva veramente una posizione piccolissima. Come vedete il gain è dei 34 mila dollari, la posizione vale 45 mila dollari, quindi era veramente piccola per il suo portafoglio. Se ne pente anche lui perché crede che nei prossimi anni questa società possa espandersi in maniera notevole ed è posizionata in un settore che nelle prossime decadi anche non potrà far altro che crescere, quindi peccato. Poi abbiamo Avant Brands che fino a poco fa si chiamava G-Tech Holdings però ha cambiato nome. Questa è un'altra società attiva nel settore della cannabis che si occupa di produrla e distribuirla. In questa sta perdendo il 12% anche se nel suo portafoglio privato ha una posizione in grosso guadagno. Questa è anche una posizione piccolina, poco meno del 3% dovrebbe essere più o meno e in questa ha una buona convinzione che possa diventare un vero closso. Adesso vale più o meno 100 milioni di dollari questa società e secondo lui potrebbe diventare una società da almeno un miliardo di dollari se non di più. Questa vende cannabis di altissima qualità e punta proprio su questo. Punta sull'offrire un prodotto premium migliore degli altri. Io ho preso una posizione ridicola, minuscola in questa società proprio copiando spudolatamente Jeremy in questo caso veramente l'ho presa così in maniera molto speculativa credendo nella sua visione perché ho molta fiducia in Jeremy. Penso che sia molto bravo a scovare queste piccole aziende con un grande futuro. Quindi ho preso una posizione veramente infima, ridicola e vedremo intenzioni di analizzarla nel prossimo periodo se ci riesco e magari vedere se aumentare la posizione visto che ultimamente l'azione sta un po' calando. Era partita in piena ma poi ha bruciato praticamente tutto quindi probabilmente a breve l'analizzerò se riesco. Poi abbiamo Walgreens Boots Alliance, la più grossa catena di farmacie negli Stati Uniti. Su questa sta perdendo il 3,45%, la posizione è grossa più o meno come quelle che abbiamo appena visto. Su questa ha costruito in questo portafoglio una posizione molto piccola perché nel suo portafoglio privato Walgreens vale tantissimo, ha investito più di un milione di dollari, anzi un milione di dollari circa, quindi è una posizione predominante, una posizione molto importante. E anche perché in questo portafoglio ha un prezzo di carico abbastanza alto, nel portafoglio privato ha un prezzo di carico molto più basso. Anch'io infatti su questa posizione sono in guadagno più o meno del 15%, se non sbaglio, 15-20%. Potete vedere su Itoro, investire con Goose 7, qual è il mio guadagno su questa posizione. Recentemente è scesa parecchio nonostante abbia portato dei risultati veramente ottimi e abbia addirittura realizzato la Guidance per i risultati del 2021. Quindi molto strano il fatto che sia crollata. Io avevo fatto un pensierino ad aumentare la mia posizione nonostante fossi in guadagno, però alla fine ho optato per non aumentare perché penso ci siano degli investimenti più interessanti, in cui il possibile guadagno a 5 anni sia più interessante, perciò ho lasciato perdere. Nonostante io creda molto nella società e penso che nei prossimi anni darà delle buone soddisfazioni, dal mio prezzo di acquisto darà delle buone soddisfazioni. Poi abbiamo Health Beauty che è una delle posizioni più vecchie di Jeremy, penso l'abbia presa intorno al 2015-2016, su cui sta sta guadagnando il 265%. Era stato molto intelligente perché avevo notato che alcuni influencer, soprattutto su YouTube, stavano iniziando a provare questi prodotti, ad utilizzarli e a pubblicizzarli perché si trovavano molto bene con questi prodotti, gli piacevano tantissimo, quindi ne parlavano molto volentieri e questo ha spinto molte persone che seguivano questi influencer a comprare i prodotti Health Beauty che piacevano molto alle persone. Quindi è stato molto furbo a vedere questo trend. Anche qua, se non sbaglio, ha chiuso una grossa porzione del suo investimento. Eranamente perché le azioni sono salite, parecchio, hanno continuato a salire anche dopo le sue vendite, quindi anche qua ha peccato di impazzinza. Però se ne è reso conto, ne ha parlato durante il video, ha detto che si è pentito un pochino di aver venduto, però ha fatto un'altra considerazione molto intelligente, cioè che quei soldi che ha tirato fuori da Health li ha investiti in altre aziende che hanno dato delle performance pazzesche, quindi alla fine non è stato un danno. Infine abbiamo Cirrus Logic. Questa è una posizione abbastanza piccola e che deve mantenere piccola perché Cirrus Logic è un'azienda che dipende quasi interamente da Apple. Non so che percentuale dei suoi ricavi, ma più o meno il 90-95% dei ricavi derivano appunto da Apple, quindi se ci fosse qualche difficoltà con Apple potrebbe essere molto brutto per l'azione. L'azione potrebbe crollare anche del 50-60% in un solo giorno, quindi un'azienda molto rischiosetta. Però gli piace parecchio, opera in un settore che gli piace molto, infatti si occupa di creare dispositivi audio per gli smartphone principalmente, quindi per gli iPhone. Quindi finché Apple continua a fare soldi e continua a crescere, per Cirrus Logic andrà bene. Però se dovessero esserci problemi potrebbe essere preoccupante. Poi abbiamo Cash che vale 842 dollari perché normalmente in questo portafoglio mantiene il Cash molto basso, però poi fa delle aggiunte quando vuole acquistare qualcosa. E questo è quanto, il totale del portafoglio è 1.648.000 dollari. Davvero considerevole. L'ultimissima cosa da dire è che ha affermato che potrebbe aggiungere ancora due posizioni a questo portafoglio. Non ha detto quali, non si sa quali potrebbero essere, però secondo me forse una di queste azioni potrebbe essere Voyager Digital, perché recentemente la sta acquistando parecchio. Mi ricordo che un po' di tempo fa aveva detto che non l'avrebbe aggiunta al portafoglio pubblico perché è troppo speculativa, però adesso che è scesa un pochino magari un pensiero ce lo farà, chi lo sa. Invece la seconda azione non saprei dire quale potrebbe essere, al momento non ci sono target conosciuti, quindi è molto difficile dire quale potrebbe essere. Se tu pensi di sapere quale potrebbe essere la sua prossima azione, scrivilo nei commenti. Tu cosa ne pensi di questo portafoglio e che azioni hai in comune con Jeremy? Scrivilo nei commenti. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto lascia un mi piace, iscriviti al canale e condividi il video con tutte le persone che conosci. Fino al prossimo video, buoni investimenti a tutti. Ciao!